Allora, un altro mese, stavolta un po' abbondante, mi sa che è un mese e due settimane che sono passati dall'ultimo video perché sono andati in vacanze, non ho registrato nulla là, però il risultato qui sembra ottimo penso che tra qualche settimana sarò obbligato ad andare a tagliare perché ormai i capelli stanno crescendo anche sulle orecchie se dovessi tirare di su ai lati probabilmente potrei essere qualcosa tipo Wolverine comunque direi che sono piuttosto soddisfatto dal risultato e non ci sono buchi, non ci sono vuoti di nessun tipo quindi molto bene, anche dietro non si vede praticamente nulla ma adesso magari nel prossimo video si vedrà anche meglio perché andandoli a far tagliare corti soprattutto sui lati e dietro potrò darvi un update anche sugli altri lati della testa anche a capello corto quindi vedremo, è anche la prima volta che li faccio tagliare così corti quindi sarà curioso da vedere anche se sono abbastanza positivo sul fatto che non credo che si vedrà praticamente niente quindi so far, so good